C'è da augurarsi che questa volta la FGC sia benevola anche più di quanto sia stata nel concedere altro tempo dopo aver esaminato il primo trust presentato dalla Fertana. Il club Granata non aveva seguito in nessun modo le indicazioni della federazione nonostante alla vigilia della bocciatura dalla società fossero giunte ampie rassicurazioni. In verità nulla era stato concordato con i legali della FGC a giudicare dai tanti rilevi mossi al trust peraltro presentato come bozza. Dopo aver avuto altro tempo a sua disposizione la sanità non avrebbe comunque fatto marcia indietro su alcuni punti che non avevano convinto la FGC. Il club di Lotito in mezza Roma sembra deciso ad indicare ancora due trustee mentre dalla federazione ha raggiunto l'invito a scegliere nel numero dispari. Uno dei due pari avrà l'ultima parola in caso di disaccordi. Non si capisce però l'ostinazione della proprietà Granata a voler proseguire su una linea non gradita alla FGC. Sembra quasi che la si voglia sfidare e creare i presupposti per uno scontro politico istituzionale che potrebbe solo nuocere alla Salernitana. L'altro elemento su cui la FGC aveva mostrato perplessità era stato l'amministratore unico figura scelta dai proprietari e non davanti terzo. Pare che il generale Marchetti sarà ancora confermato nel suo ruolo e che sarà lui a firmare rinnovi di contratto dei dirigenti e dello staff tecnico previsti in queste ore. Resta poi una grande perplessità sulle risorse messe nel trust. Lotito in mezza Roma non hanno mostrato grande generosità nell'occasione facendo leva su crediti e futuri incassi. In queste ore sarebbe emerso anche un dettaglio importante sui motivi della valutazione molto alta del club da parte dei due proprietari. I soli beni immateriali sarebbero valutati 30 milioni di euro. Al di là della cifra va detto che all'epoca dell'acquisto degli stessi la proprietà romana si impegnava a girarne la titolarità al comune. Per un club che non ha centro sportivo di proprietà, settore giovanile all'altezza, beni immobili propri e che vanta un palco calciatori dal valore limitato, certe cifre sono apparse esagerate, spiene inquiugabile di una volontà di alzare la posta e di prendere tempo. Per perseguire quale obiettivo? Sarà il tempo a dirlo. Di certo, così operando, Lotito e mezza Roma non stanno tutelando gli interessi della tifoseria salientana. Presentato il trust, riveduto e corretto, la parola passerà al Consiglio federale del 7 luglio per Salerno altri quattro giorni di passione. Peggiore regalo da Dio i due patroni alla dirigenza non avrebbero potuto fare alla città. Grazie a tutti.